buongiorno a tutti i fan della casa chiave di milano oggi abbiamo fatto chiave con telecomando per ducato 2016 perfetto ecco qua vediamo se apre chiude perfetto vediamo se accende il motore tac alla grande perfetto anche questa è andata ok casa della chiave milano number one no 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione